Anna, ma non l'hai messo più! Ma che lo sai? Mi ricordo però! Abbiamo detto che iniziavi tu! Ma quando mai? Ma che l'ho andata a scelta? Sotto in gomma, hai come leggo sotto in gomma! Ernesto! Ernesto! Devi cominciare tu! Ma si! Sei sicuro che? Sono sicuro che la prima battuta era tua! Eh! Ma potrà sì o no? No, c'era sì! Eh! Che è scritto? Buongiorno! Buongiorno! No! Finalmente sei arrivato! Buongiorno! Oh! Tutto bene? Io lo posso amici a casa mia! Bello! Mi piace questo eh! Guarda! Un telefonino nuovo! Era ora! Era ora che ti ha cattato il telefono nuovo! Parola eh! Parola eh! Come parola eh! Che ho fatto lì? Questo! Parola mia! Chi lo sa che a te è paziente? Oh! Mi piace proprio! Come senti? Tu sai l'hai il microfono Francesco? Si eh! Tu è buon lì! Questo cosa! Guarda! Io ci ho detto alla moglie chi sta da scendere senza soldi! Perchè sono accatto tutto cretinate! Ma chi le ha portato a scariare da picciare? Ma chi le fa con questa pazzella a mano? Ti piace? Mi piace! Mi piace! Quante costa? Non muo domani! Quante la caglia? 255 mila lire! Non mi piace! Non mi piace! Non mi piace! E tu le ha portato a 350 mila! Non mi piace! E tu le ho portato a scariare! E tu le ha portato a scariare un vero! Un vero! E tu le ho portato a 500 mila lire il telefono e 250 mila lire la moto! Salute! e perchè il lucro di tina è la vigile, non dà la macchina io stavo provando quanto stavi facendo a casa ora che, ma la fermata mi ha fatto 450 mila di lucro, non dà la macchina non c'è da te, ma io sto facciando, vuole fare a sapere ortaggio al pubblico ufficiale vuole fare a sapere ortaggio al pubblico ufficiale ma la puoi fare o lo faccio? ma direi che è il sottileo, quando uno vanguolo si fotte la vigile ma di là è ortaggio al pubblico ufficiale, è ortaggio